Siamo con Federico Buffa, il grande narratore dello sport di oggi. Raccontare lo sport di Franco Baresi, come qui al Festival della Lettratura di Mantua, e raccontare lo sport dei calciatori di oggi, cosa è diverso? Anni fa ci fu un bellissimo film intitolato The Way We Were, Come eravamo. Quando si può viaggiare con loro, che ti fanno anche ascoltare le partite che giocavano, nel senso che le descrivono, viaggi nella tua adolescenza, nella tua giovinezza, viaggi con i momenti che ti hanno dato gioia, perché è inutile negarlo, ed è più semplice per gli esseri umani andare a ritroso nel tempo con la propria felicità legata a un evento, che possa essere sportivo o non, e la comunione che si ha con questi atleti è molto superiore a quella che si ha con un atleta contemporaneo, che secondo me è narcisista di se stesso, che crede di aver saltato la triangolazione con la stampa per poter parlare con i propri fans, e invece secondo me ha scavato un fossato profondissimo, e quindi ci perdiamo i lati migliori di questi atleti, che sono i lati che poi invece questi avevano più facilità a mostrare, e adesso che non hanno più bisogno di dover difendere la propria immagine pubblica, si lasciano andare, alle volte in maniera direi molto toccante, come ha fatto Franco oggi pomeriggio. C'è un calciatore che l'ha emozionata particolarmente nel raccontarlo? Gaetano Scirelli. Grazie.